La nuova priorità della Lega, dopo la sua guerra ai tappi di plastica per non girare le bottiglie di plastica, è la cannabis. Sì, è vero, la guerra alla cannabis del partito di Salvini non è niente di nuovo, però ieri, da ieri, il nemico non è solo la fluorescenza naturale, ma anche le sue rappresentazioni in immagini, tanto da spingere la pentastellata Emma Pavanelli a parlare di fobia iconografica. In un subemendamento al decreto sicurezza del deputato della Lega Igor Jezzi, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, si propone di vietare l'utilizzo di immagini o disegni anche in forma stilizzata che riproducono l'intera pianta di cannabis o sue parti su insegne, cartelli, manifesti e qualsiasi altro mezzo di pubblicità per la promozione di attività commerciali. In caso di inosservanza, si legge, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa fino a 20.000 euro. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, attacca. Due anni di carcere per chi indossa magliette o fa immagini con il logo della cannabis si può dire che è uno schifo, dice. La collega di partito Francesca Ghirra parla di una deriva liberticida di questo governo, di questa maggioranza che non ha mai fine. I 5 Stelle sottolineano come per la Lega la lotta alla criminalità, passi da follie normative come queste, che non tengono conto dell'enorme danno economico a tutte le imprese che producono cosmetici, integratori alimentari, cibo, tessile, bioplastiche e altro contenente cannabis che legittimamente utilizzano la relativa immagine della pianta sul loro packaging o per le campagne pubblicitarie. Gli Ezi non ci sta e invita a non fare propaganda strumentalizzando gli emendamenti e perfino col diretti, solitamente morbida con il governo, verga una nota per ricordare che la canapa legale assicura un giro d'affari da 1,4 miliardi di euro e garantisce fino a 10.000 posti di lavoro. Ma la tentazione della repressione evidentemente è irrefrenabile.